Volevo spiegare un attimino la differenza tra la chitarra classica e quella che viene insegnata in questo corso è la chitarra, diciamo, di accompagnamento oppure elettrica. Si tratta essenzialmente di un discorso di postazione, di postura dello strumento. Come vedete, insomma, è un po' chiaro il lavoro che è stato fatto, che già poi è molto difficile. E poi viene sconata con le dita e non con l'elettro, come secondo me. E tutti questi ragazzi hanno iniziato quest'anno. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.